Il saldo è negativo. Nel settore della ristorazione non si soffre solo il problema del personale che manca. Lo dice il rapporto ristorazione 2024 della Fipe Conf Commercio che nel tracciare la linea per il futuro, delineata da maggiori investimenti nel green, fa i conti delle imprese cessate o nate. La Sardegna porta un saldo in negativo pesante. Nel 2023 sono cessate 426 attività, oltre la metà erano imprese individuali, 58 società di capitali e circa 100 società di persone. E sono tanti anche i titolari di bar che hanno deciso di gettare la spugna nell'isola raggiungendo la quota considerevole di 170 cessazioni. Se si guardano i valori assoluti della ristorazione emerge che nell'isola ci sono settori collegati che crescono come la ristorazione mobile, con 6.500 attività. Aumentano anche le attività che propongono pasti già pronti alla consumazione. L'incidenza delle imprese femminili è del 28% tra bar, ristoranti e servizi affini, mentre quella giovanile è pari al 10,6% del totale. Lo studio di Fipe Conf Commercio vede comunque il bicchiere mezzo pieno. Dopo la crisi generata dalla chiusura forzata causata dalla pandemia, le imprese si stanno risollevando e adattando alle nuove esigenze del mercato. Il dato negativo in assoluto, al di là della cessazione delle attività che non hanno recuperato quanto perso in lockdown, è questo. Gli insuccessi che segnano l'iniziativa di tanti aspiranti imprenditori aumenta. Il tasso di sopravvivenza delle nuove imprese, infatti, supera appena il 50%. Grazie per la visione!